Sono stati otto i neomaggiorenni che si sono presentati a Palazzo Civico San Francesco al Campo. Si può parlare della visita di una delegazione, visto che i giovani nati in quell'annata in paese sono circa una cinquantina. Il sindaco Sergio Colombatto, in apertura del suo intervento, ha affermato che la consegna della bandiera è una tradizione locale, che continua a vivere grazie ai ragazzi. Un vestito speciale, perché raccoglie le persone accomunate dello stesso anno di nascita. Il sindaco, oltre si è rimarcato, che raggiunge le 18 anni e vuole dire assumersi delle responsabilità, e che i doveri a cui dovranno sottostare, seppur inizialmente non molti, comporteranno un leggero cambiamento alla quotidianità. Colombatto ha dichiarato anche che stanno andando verso il momento migliore dell'esistenza, e che è proprio tra i 20 e i 30 anni che si costruisce l'avvenire, e anche in caso di trasferimento altrove le radici non verranno mai dimenticate. Quindi ha consigliato ai ragazzi di vivere bene questo periodo della loro vita, nonostante ci saranno dei momenti difficili e delle prove da superare. L'assessore Barbara Re ha detto ai neomaggiorenni di non spaventarsi in caso di errori compiuti, ma ripartire e fare nuove esperienze. L'importante è saper imparare dagli inciampi. I ragazzi che hanno aderito all'incontro sono Luca Perona, Marco Tassone, Alessio Capalti, Chiara Cabodi, Federica Dalmasso, Simone Quaranta, Gioele Ginaneschi e Davide Aimone Mariota.